Come nasce una dittatura? Perché nasce una dittatura? Quali modi, quali bisogni intercetta una dittatura? Quali ragioni ha una dittatura? Sono domande che si pongono spesso, soprattutto in ambito di politologia o di filosofia, anche di filosofia del diritto, perché d'altronde la dittatura è la negazione di molte libertà, a vantaggio di un governo dei pochi o di un governo del singolo, il dittatore appunto, che da quel momento in avanti, da quando riesce a prendere il potere, domina non solo la scena pubblica ma la stessa idea di stato. A volte una dittatura può nascere dal caos, quindi dalla richiesta da parte del basso di un ordine o comunque di un riordine delle cose. Altre volte la dittatura può nascere da un senso di sbandamento o dall'assenza di punti di riferimento. A volte, è incredibile, ma la storia lo conferma, una dittatura può nascere anche in un'aula di tribunale. Prendete il caso del primo aprile 1924. No, questa non è la storia di un pesce d'aprile, o meglio, potrebbe essere stato il pesce d'aprile più tragico della storia umana. 1 aprile 1924. Siamo in un'aula del tribunale di Monaco di Baviera. Si sta concludendo un processo, un processo che dura già da qualche mese e che riguarda alcuni personaggi molto famosi all'interno sia della città di Monaco che di tutta la Germania, ma anche uno scuro agitatore, un uomo arrivato dalla vicina Austria, un uomo che diventerà molto famoso in futuro, ma chi è presente in quell'aula forse ancora non lo sa. 1 aprile 1924. È una data che resterà impressa nella storia della Germania. Quel giorno un giudice, un giudice di nome Georg Neithar, emette la sua sentenza. Alla sbarra c'è appunto quest'uomo, questo austriaco, un uomo di 34 anni, non molto alto, uno sguardo abbastanza ipnotico, un ciuffo di capelli e dei baffetti che qualcuno giudica ridicoli, ma che diventeranno simbolo di Benadio. Cosa dice il giudice Neithar? Impugna il maglietto, lo batte sulla sua cattedra e dice per l'accusa di cospirazione contro lo strato e tradimento, di cui vi ritengo colpevole, io la condanno a una pena di 5 anni di Festungshaft, arresti di fortezza. L'imputato, come dicevamo, austriaco, 34 anni, reduce della grande guerra, si chiama Adolf Hitler. Hitler, quel giorno della primavera 1924, è sostanzialmente un prigioniero politico. È stato arrestato diverso tempo prima a seguito di un mancato golpe, potremmo chiamarlo così. Alla storia passerà come il pucce della Burger Breu Keller, dal nome del locale in cui i congiurati si erano ritrovati e avevano sequestrato per qualche ora i vertici statali del governo della Baviera. I giornalisti invece chiamano quel procedimento processo Ludendorff Hitler, perché Hitler non è da solo alla sbarra. Con lui c'è Ernst Röhm, il capo dei Freikorps di Baviera, ufficiale dell'esercito che, finita la guerra, ha reimpiegato i propri uomini che, teoricamente, dovevano tornare a casa e restituire le armi come una sorta di polizia politica per reprimere le sommosse comuniste e sindacali, reprimerle ovviamente nel sangue. E con lui, con Röhm, c'è Eric Ludendorff, già Fed Maresciallo, che è molto un eroe di guerra, uomo anziano, militare di carriera. Ma non sono da soli, c'è Emil Morris, che a rispetto del nome è tedesco e, soprattutto, è stretto collaboratore di Hitler, gli fa da guardia del corpo e anche da autista. C'è Rudolf Hess, che diventerà il segretario personale di Hitler. Insomma, c'è un bel po' di gente a quella sbarra e sono tutti accusati di cospirazione. Ma facciamo un robusto passo indietro. Com'è arrivato Adolf Hitler a Monaco di Baviera? C'è arrivato poco prima dello scoppio della Grande Guerra. D'altronde sappiamo un po' qual è stata la sua vita travagliata in gioventù, figlio di un funzionario doganale, non ben voluto dal padre, tutelato dalla madre, che però muore quando lui è ancora giovane, ha una sorellastra che per lungo tempo si interessa di lui e cerca anche di fargli avere dei soldi. Allo scoppio della Grande Guerra, il giovane Hitler ha cercato di arruolarsi in un reparto dell'imperial regio esercito austriaco, ma è stato scartato la visita. Problemi fisici. Allora ha attraversato la frontiera, si è presentato a Monaco di Baviera e si è arruolato volontario in un reggimento bavarese, ferito sul fronte occidentale, dove è stato ferito due volte. Una volta alla coscia, niente di grave. La seconda volta ha perso temporaneamente l'uso della vista perché i suoi occhi sono stati esposti a un agente gassoso urticante. Ha avuto un contatto, anche se marginale, con l'iprita, il famoso gas mostarda utilizzato nei grandi assalti della Grande Guerra sul fronte occidentale. Uscito dall'ospedale proprio in concomitanza con l'armistizio, Hitler si è ritrovato di nuovo a Monaco di Baviera, sbandato, come tanti reduci, spiantato, senza soldi e testimone delle violenze di Monaco. Monaco che diventa prima sede della effimera Repubblica Spartachista, poi dei massacri dei Freikorts e infine di un tentativo da parte della classe dirigente ereditata dal morente impero tedesco, ormai destinato a diventare una Repubblica. Il tentativo, si diceva, è di instaurare un governo forte, per non dire autoritario. Quel governo è retto da tre uomini. Il primo è il commissario statale, von Kahr, che è stato inviato lì da Berlino con piedi poteri. Il secondo è il capo della polizia, colonnello Ritter von Seisser. Il terzo è un generale, comanda i reparti della Reichwer a quartierati lì a Monaco. È il generale von Lossow. Sono loro tre, von Kahr, von Seisser e von Lossow, a condurre la vita politica di Monaco nei primi anni venti. Hitler però non resta con le mani in mano. Prima si presenta ai Freikorts, a Röhm, ma non va oltre una blanda manifestazione di stima reciproca e di amicizia. Röhm comunque diventerà amico di Hitler fino a un certo punto. Ma Hitler di qualcosa deve vivere. E si presenta quindi alla polizia, si offre come informatore e la polizia lo utilizza per infiltrarsi nei piccoli partiti politici che in quegli anni affollano la scena di Monaco di Baviera. Uno di questi è il DAP, Deutsche Arbeiterpartei, partito dei lavoratori tedeschi. È stato fondato da un altro spiantato, Anton Drexler, che tiene i suoi comizi nelle birrerie di cui Monaco è particolarmente ricca, chiedendo un ritorno all'ordine anche a costo di richiamare i Kaiser, cosa ovviamente impossibile per le clausole armistiziali, e chiede dignità per tutti i lavoratori tedeschi, soprattutto per chi ha affrontato la morte nelle trincee, nelle fiandre e ai pre e è tornato a casa. Non ha trovato altro che desolazione, fame e poca considerazione da parte dell'opinione pubblica. Hitler dovrebbe fungere solo da orecchie della polizia, ma si lascia coinvolgere, gli piace il clima. Comincia a tenere lui dei discorsi, a interagire con Drexler, prende la tessera del DAP, ma Drexler tutto sommato è debole. Hitler lo capisce e nel giro di qualche mese prende la guida del partito, che viene anche ristrutturato. Non è più il DAP, il semplice partito dei lavoratori, diventa il partito nazionalsocialista dei lavoratori. Questo perché viene coniugato a una base di carattere sociale, perché d'altronde si rivolge il DAP alle fasce più deboli della popolazione, una forte politica nazionalista, un ritorno alla politica di potenza che aveva fatto le fortune della Germania imperiale. Hitler però non ha molta pazienza e con lui non hanno pazienza i suoi collaboratori all'interno del partito. Vogliono il potere e sono convinti che prendendo monaco di Baviera in breve possano influire anche su Berlino, per avere un maggior peso nella politica non solo bavarese, ma dell'intera Germania. E allora cosa fanno? Cominciano a tenere dei discorsi, i discorsi pubblici al di fuori delle billerie, anche in locali molto gravi, come quello di un circo, che infiammano la folla. Non solo, riescono anche ad avvicinare il fenmaresciallo Ludendor, che tra tutti gli ex militari è quello più critico, forse perché è stato tenuto in disparte, a riposo, dopo la fine della guerra, lasciando a un suo collega, Fonsec, la creazione della Reichler. Ludendor decide di servirsi di Hitler e dei suoi per fomentare una rivolta, addirittura per un colpo di Stato. E di colpo di Stato si parla apertamente quando i vari congiurati iniziano a lavorare tra loro. Nel novembre del 1923 è tutto pronto per il colpo di Stato. Il piano è delineato. Ci sarà l'ennesimo comizio da tenere una birreria. E a quel comizio ne seguirà uno parallelo, tenuto dal cancelliere Foncar alla Burger Breuer Keller. E proprio all'interno di quel comizio faranno irruzione Hitler e le SA del capitano Röhm per sequestrare il triunvirato che sta guidando la Baviera. E inizialmente il piano sembra funzionare. Foncar e gli altri due ufficiali vengono tenuti prigionieri in una sala della birreria e viene detto loro che arriverà un altro ufficiale, che poi si rivederà Ludendorff, per prendere la guida dell'anno. Loro devono solo rinvitarsi a collaborare. Nel frattempo Röhm dovrà marciare sulle caserme e convincere i soldati a passare dalla parte degli insorti. Ma qualcosa non va per il verso giusto, perché Ludendorff ci mette un bel po' ad andare alla Burger Breuer Keller. C'è chi dice che non sia convinto, che tergiversi, che a un certo punto pensi anche a un piano alternativo. Soprattutto Foncar, che è un politico estremamente sveglio, appena Hitler esce dalla sala, comincia a parlare con i suoi carcerieri e gli fa presente che avrebbe bisogno di tornare a casa e con lui anche gli altri due ufficiali, perché d'altronde le loro mogli saranno in pensiero. D'altronde non si è tra gentili uomini. E quando arriva Ludendorff è lo stesso Feldmaresciallo da autorizzare Foncar e gli altri due a tornare a casa. Hitler, quando lo scopre, va su tutte le furie e capisce che il colpo di Stato rischia di fallire, anche perché le caserme non si sono piegate a Röhm. Anzi, c'è stata una sparatoria, ci sono i primi feriti. La mattina del 9 novembre 1923, Hitler e Ludendorff tentano il tutto per tutto, una marcia armi in pugno lungo la Ferdinale, la via principale di Monaco, per andare a occupare i palazzi del governo. Ma sulla loro strada trovano un presidio ben armato della Reichwer, che ordina loro di disperdersi e poi apre il fuoco. Si contano alcuni morti e alcuni feriti. Tra questi c'è anche Hitler che cerca la fuga ma viene alla fine arrestato. Lui, Ludendorff e gli altri capi della rivolta si ritrovano tutti nelle celle della polizia. Il 24 febbraio del 1924, quando inizia il processo. È un processo che, nelle intenzioni di Foncar, dovrebbe servire da esempio. Dovrebbe essere il passo obbligato verso la pacificazione della Baviera. Ma il processo non va come vorrebbe Foncar o come vorrebbero i suoi collaboratori. Perché Hitler capisce subito la strategia. E cosa fa? Non è l'Hitler tizone ardente che sbraita, che urla durante le sue imbettive, durante i suoi discorsi della Birelie. Non ha toni antisemiti, non ha toni nazionalistici, non accusa nessuno. Si mantiene calmo. Forse perché conduce il giudice Neihardt, che qualche tempo prima è inflitto un mese di reclusione per Rissa. Fatto sta che Hitler mantiene la calma per tutte le settimane di durata del processo. E si mantiene calmo anche mentre viene letta la sentenza. Lui sostanzialmente è il primo condannato. Con lui vengono condannati anche Emil Morris. Vengono condannati anche gli altri collaboratori, a cominciare da Rudolf Hess. Röhm viene riconosciuto colpevole, ma è liberato. E questo genera qualche sospetto. Ludendorff addirittura viene prosciolto, forse in virtù del proprio passato di eroe di guerra. Hitler invece si prende la condanna ai resti di fortezza. Che vuol dire una pena tutto sommato lieve. D'altronde significa poter godere di una cella ampia, ben arredata, singola, e un carcere tutto sommato morbido, senza dover sottostare a regole troppo ferre da parte di secondini, e senza dover espletare lavori manuali. Non sono i lavori forzati. Quindi è una pena lieve quella che gli viene inflitta in rapporto a quello che aveva fatto. Ci sono delle proteste ovviamente da parte del governo, da parte della stampa, però ormai la sentenza è emessa. Forse il giudice ha pensato che condannare Hitler a una pena troppo pesante avrebbe potuto scatenare delle proteste di piazza. Forse ha voluto prevenire qualche problema. Quando Hitler varga la porta della prigione di Landsberg, trova un'accoglienza, se non calorosa, comunque cordiale. La cella che gli ha segnata è decisamente comoda. E a fianco gli hanno piazzato a essa, che funge dal suo segretario. A lui Hitler detta quello che diventerà il suo manifesto. E diventerà un libro. Un libro di insospettabile successo. Lo intitolerà Mein Kampf, la mia battaglia. E uscirà quando lui stesso uscirà dal carcere. Non dopo cinque anni, dopo nove mesi. Per buona condotta. Un qualcosa che desta ulteriore scampore. E da quel momento in avanti, la dittatura che ha messo le sue prime radici con quella sentenza in un'aula di tribunale, comincia a maturare. E come matura? Non solo coi comitti. Non solo col libro. Ma con le violenze della SA, che diventano sistematiche, organizzate. Con la stampa di giornali che ricalcano le idee e il manifesto del Partito Nazionale Socialista. Con le elezioni che vedono, tornata dopo tornata, aumentare il numero di deputati con la camicia bruna che siedono tra i banchi del Parlamento a Berlino. Infine, con una mossa che sarà geniale. Hitler appoggerà inizialmente Ludendorff nella corsa alla poltrona di Presidente. Ma in realtà ha già in mente di scaricarlo. Vincerà l'altro grande Feldmaresciallo, Paul von Hindenburg. Un uomo molto diverso da Ludendorff. Molto più pragmatico. E che ha già intuito il pericolo rappresentato da Hitler, dall'ESA e dai loro metodi. Un uomo che farà di tutto per anni per tenere Hitler e i suoi lontani dal potere. Ma Hindenburg è anche un uomo molto, molto stanco. È un uomo che è afflitto da malattie. È un uomo che si lascerà condizionare da cattivi consigli. Cattivi consigli come quelli che arrivano da Georg Strasser. Uno scontento del partito nazionalsocialista che tenterà una scissione ma verrà cacciato da Hitler in persona. E non solo. Si farà consigliare male dall'esercito e dai grandi partiti cattolici e conservatori. Che penseranno di imbrigliare Hitler offrendogli una carica simbolica, quella di vice cancelliere. Ma Hitler non abbocca. E alla fine avrà quello che vorrà. Il cancellierato. Riuscendo in breve a dominare la scena politica e il Parlamento stesso. Mancherà solo l'ultimo atto per avere una titolatura piena. Servirà il pretesto. Il pretesto sarà una scintilla. Quella che darà fuoco all'ufficio del Parlamento. E proprio quell'incendio, applicato si dice da un ebreo olandese, darà modo a Hitler di sospendere le grazie costituzionali, forzando la mano al Parlamento e obbligando il vecchio Hindenburg a firmare quel documento che trasferirà tutti i poteri al cancelliere, sospendendo alcune libertà fondamentali, come quella di associazione, di parola e di stato. E quando la polizia comincerà a piegarsi sempre di più ai voleri del nuovo cancelliere e quando le SA cominceranno a esercitare un potere sempre più forte, sarà troppo tardi per intervenire. Nemmeno il vecchio Hindenburg potrà nulla. Anzi, Hitler dovrà solo liberarsi dei pesi morti, con la notte di lunghi coltelli, con l'estromissione sanguinosa di Röhm e delle sue SA. A quel punto la nascita sarà completa e ci sarà una vera dittatura in Germania. Una dittatura che prenderà il nome di Terzo Reich e che porterà la Germania, tutta l'Europa e il mondo intero fino sul ciglio del baratro chiamato Seconda Guerra Mondiale.